Maria! 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 Dito! E qui! Non posso! Maria! Ti prego, se Bernardo sapesse! Sono un minuto! Non posso! Un minuto non è abbastanza! Un'ora! Non posso! Per sempre! Allora vengo io! Maria! Sì, vengo! Maria! Un momento! Che pericoloso! Mi piace tanto, ed anche io mi piace tanto! No, lui è come Bernardo! Lo credi? Sì, te lo credo! Credi solito! Sì, te lo credo! Che pericoloso! Che pericoloso! Che pericoloso! E? Che pericoloso! Che pericoloso! Che pericoloso! Che pericoloso! Che pericoloso! Che pericoloso! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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